Green State Dale perché rientra in una filosofia di vita, un modo di vedere le cose, un modo di interpretare il mondo e un piccolo aiuto per cercare di fare qualcosa di buono per il pianeta. I temi affrontati saranno l'inquinamento globale, la presenza di enorme quantità di plastica negli oceani e soprattutto oggi in particolare la mobilità elettrica, diciamo fotovoltaico, produzione di energie alternative. La sostenibilità anche nel mondo del caffè si può fare qualcosa e noi lo abbiamo anche già fatto. L'abbiamo fatto l'anno scorso a dicembre installando un nuovo impianto. Dalla normativa italiana di oggi che dice che si possono emettere 200 parti per milione, la Orocaffè si vanta di essere un'azienda che ne produce 10 parti per milione di polveri fine. La produzione della microfibra che guarda il futuro è ecosostenibile. Il nostro prodotto è fatto appunto attraverso un ciclo all'acqua da materiale riciclato, quindi ricicliamo la plastica per dargli una nuova vita e trasformarlo in un bene di lusso. Il nostro prodotto per il fatto che è fatto da poliessere riciclato ha un impatto inferiore dell'80% rispetto a microfibra che invece derivano da poliessere vergini. Pensate che il fondo del mare è conosciuto oggi solo per il 5%, d'altra parte però il mare oggi è sovrasfruttato e soprattutto inquinato. L'inquinamento da plastiche, da microplastiche, cioè pezzetti minuscoli sotto i 5 mm, ormai stanno entrando nei pesci, nei cetacei e se vanno nei pesci poi ce li troviamo sul tavolo. A nessuno piace mangiare un cucchiaino di plastica. Dobbiamo diventare tutti responsabili, essere consapevoli che ognuno di noi può dare un piccolo cambiamento.